Il fatto stesso che sia la diciannovesima edizione sta ad indicare che Friuli Dog fa parte ormai della città di Udine, del modo nel quale si vive questo settembre e del modo nel quale anche si riscopre, attraverso questa che senz'altro è una vetrina del Friuli, si riscopre tanta parte di questo territorio ricchissimo dal punto di vista gastronomico, dal punto di vista anche culturale. Qui appunto il tema enogastronomico è proprio il filo rosso che guida la riscoperta della cultura fiulana e di tante sorprese che ancora ci riserva, che vanno dai colori, dai sapori. La città si presenta con tutte le sue piazze, con un'ulteriore espansione del territorio e credo che tutti gli appassionati potranno qui ritrovare quello che hanno apprezzato in passato ma anche certamente scoprire qualcosa di nuovo. Parte della tradizione di Friuli Doc è anche discutere tutti gli anni che il prossimo anno si cambieranno le regole però poi in realtà si vede che il successo è confermato e certamente la disciplina di tutti i cittadini, l'educazione ovviamente deve essere mantenuta e raccomandata soprattutto dopo gli orari di chiusura. Tutti gli anni appunto discutiamo su come cambiarlo però poi in realtà si confermano tanti aspetti importanti. Quest'anno diciamo un'altra delle novità è che ci sarà anche la promozione appunto contro l'abuso dell'alcol.